In alcuni minuti parlo sul nostro progetto Signia Maris. Il progetto Signia Maris è un'applicazione per promuovere il territorio, il marco e la gastronomia. Ci sono tutti elementi che abbiamo in common, la regione dell'Italia sud-è e le regioni costali di Grecia. Il progetto Signia Maris potrebbe rappresentare un momento di intervento di buona pratica tra i nostri paesi, un momento di synergia che vediamo tutti nel sviluppo del turismo, con le sue caratteristiche che share il stesso marco. Signia Maris è un progetto del Ministro Italiano di Culturale, Attività e Turismo, intermedio per la cultura, naturale e turistica attrazione che promuovere la naturalistica culturale e l'enogastronomica. Il territorio italiano è una strategia turistica che ha avvisato il porto come un porto. Per i turisti di entrando in questi porti in Italia, che sono inclusi nel network di marina, Signia Maris ha creato un set di itinerari da scoprire l'Italia. dove l'art, la natura e la cultura collide con il Mediterraneo, mergendo l'aria e l'aria. L'apparizio adeguato e rappresentano l'Italia network di porti turistiche possono segnalare un tool già existente che offre nuove possibilità di expandere l'accessibilità per l'italia culturale. che promuovere non solo le porti loro, ma anche l'initiativa locale e l'arrivo internazionale. capitalizzano sui dati turisti del turismo nautico, mergendo l'arrivo internazionale con dati del turismo tradizionale. l'italia marina network può diventare un'arrivo internazionale nel settore turistico, che, se succederà, è potuto portare un'arrivo internazionale per le regioni diversi. Focuse del progetto sono le regioni di Sato in Italia, effettuati da Poi, culturali, naturali attrattori e turisti, inizialmente Calabria, Campania, Apulia e Sissili. Con questo progetto, il progetto Signia Maris interpreta il Widesprince-Marina-Ouest-Coast-Gateways per il territorio in edificio culturali e naturali territori. sottotitoli, parte del valore dell'arrivo internazionale per la marina. Questo è il porto che è individuato nel sud di Italia. La marina è presentata come un'item che aumenta l'accessibilità del culturale e del naturalezza. Con l'amma di promuovere la eccellenza territoriale, canvai turisti, in addition to those that already existen. Il progetto include promuovere la comunicazione di attività che hanno fatto per intercettare la demanda di turisti foreign, soprattutto per involvare la internazionale della industria turistica, che ogni territorio expressa. Tutti Signia Maris contribuiscono alla creazione, comunicazione e promuovere il servizio turistico, complementari ai porti tradizionali, che sono essenziali per l'ambiente del rinforzamento naturale e culturale delle regioni. più informazioni sulle porti. Il obiettivo del design digitale di Signia Maris, il sito web, la dedicata app, e il profilo social dei majori network, è la creazione di un sistema di total offer. Il progetto del sito di Signia Maris è di cambiare la comunicazione e la perfezione dell'Italia Maris, in modo che si tratta di rinforzare un sistema che può essere utilizzato e utilizzato per i passaggi per l'Italia. Perciò, il sito web ha promuovere il sviluppo di sviluppo internazionale, la creazione culturale, per l'excellenza, l'opportunità turismo offerto delle regioni naturali convergente. Un'altra slide del sito. Un'altra slide del sito. Un'altra slide del sito. Un'altra informazione che è possibile rispetto al sito web. Signia Maris ha creato un circolo virtuoso che diventano una forza per il sviluppo economico dei territori, promuovendo un flusso turistico in additione a quelli dei attraccionati, dal sito alle attraccioni culturali, come presentando un nuovo offer di servizi nautica che oggi non sono ancora integrati con le offer tradizionali. nostre ministri e l'Unione europea supportano il trasferimento delle qualità come un'opportunità per i membri dei paesi. A crescere e a crescere. Il progetto Signia Maris potrebbe rappresentare un momento di confrontazione tra le nostre turistiche. dei elementi di sostenibilità e la qualità del progetto del Signia Maris ha creato un'importante increase in turnovers per i turisti e per i territori che hanno adottato i turisti. Coesione per i membri di collaborazione, sharing, planning, implementazione e verificazione. Perciò ci saranno avveniremo la nostra esperienza. Signia Maris è un progetto dal Ministro italiano di Culturale e Attività e Turismo che ha dato una nuova strategia come un'arco tra l'aria e la terra. Per ogni informazione vi ringrazio alla Città di Commercia. Grazie per la sua attenzione.